musica imparare a suonare il blues è estremamente importante per sviluppare il tuo estero improvvisativo sia sulla chitarra che su qualsiasi altro strumento non soltanto il blues è uno stile estremamente espressivo e divertente da suonare ma è anche alla base della musica contemporanea e ha influenzato in un modo o nell'altro tutti i grandi della chitarra quindi se vuoi imparare ad improvvisare il blues è fondamentale ci sono diversi aspetti che devi considerare quando vuoi sviluppare una buona tecnica improvvisativa innanzitutto devi conoscere bene la tecnica e la teoria devi conoscere un vasto repertorio di licks così da avere un buon vocabolario musicale e poi la cosa più importante è suonare 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 così che tu possa mettere in pratica quello che impari ecco perché ho sviluppato the blues room the blues room è un cofanetto composto da 12 basi musicali in formato mp3 accompagnate dalla partitura le 12 basi musicali coprono i diversi stili di blues in tutte quante le tonalità e questo è un ottimo strumento che ti sarà estremamente utile quando ti eserciti e ti aiuterà a consolidare quello che stai imparando e a sviluppare il tuo estero improvvisativo con queste basi musicali adesso puoi avere una jam session con dei veri musicisti ogni volta che vuoi e sviluppare la tua conoscenza del blues e ovviamente sviluppare la tua tecnica improvvisativa per un breve periodo ho deciso di offrire the blues room ad un prezzo speciale su questa pagina trovi il link cliccalo ed inizia la tua jam session adesso musicisti Grazie a tutti.